C'è amiche, c'è amici, vediamo questa tecnica di seduzione, chiamata tecnica di seduzione della goccia d'acqua. In cosa consiste? Intanto va utilizzata quando abbiamo tempo a disposizione e è meglio che questo bersaglio, diciamo, di seduzione non sia comunque l'unico bersaglio fondamentalmente, o comunque se è l'unico bersaglio dobbiamo dedicare del tempo, perché la tecnica prevede proprio la stessa, diciamo, si chiama della goccia d'acqua perché la goccia piano piano scava la roccia. Però non è un getto d'acqua quello che scava la roccia, è una goccia che batte costantemente. Quindi in cosa consiste? Consiste nell'entrare piano piano in sintonia emotiva con l'altra persona, entrare in punta di piedi. In questo modo otteniamo dei risultati importanti e consolidati bene. Il primo risultato è che praticamente riusciamo a evitare che la sua parte logica ci, diciamo, metta delle barriere, metta dei meccanismi difensivi, attui dei meccanismi difensivi, perché la parte logica tende ad attuare dei meccanismi difensivi quando noi spingiamo, quando noi penetriamo brutalmente, diciamo così, interagiamo fortemente con quella persona. Se noi interagiamo fortemente è facile che dall'altra parte ci siano dei meccanismi difensivi. Anche se c'è attrazione, spesso succede sia da parte degli uomini sia da parte delle donne, perché la parte logica vuole stare, vuole navigare in un mare calmo. Praticamente bisogna un po' fare come la famosa storia della rana. Per far bollire la rana non devo buttarla nell'acqua calda, sennò che essa salta via, ma devo metterla nell'acqua normale e poi piano piano far salire la temperatura. E così la tecnica della goccia d'acqua. Piano piano interagendo un messaggio oggi, un qualcosa domani, magari ci si vede una volta per un caffè. Però piano piano si diventa una presenza costante per questa persona. E durante questi incontri, questi messaggi, si amplificano le sue emozioni, si inizia gradualmente a dare nutrimento emotivo. E ci si presenta in modo tale da ricalcare i valori, ricalcare le credenze, quindi essendo anche simili da quel punto di vista, condividendo le situazioni simili. Per cui piano piano, da tutti i punti di vista, questa persona ci vedrà come la persona giusta. E l'attrazione in questo caso è l'ultimo. Piano piano ci sarà anche un cambiamento e riusciremo anche a dare più attrazione andando a dare stimoli, ma non all'inizio. Stimoli visivi che per la donna, diciamo, e stimoli cinestesici da parte dell'uomo. Quindi attraverso tecniche che ho spiegato in altri video. Attraverso questa situazione praticamente la persona si troverà coinvolta senza neanche rendersene conto. E quando lui o lei manifesterà più marcatamente l'esigenza di vederci, quello sarà il momento per cui dovremmo iniziare ad allontanarci un po'. Perché allora lì inizierà a dare molto più rapidamente, a coinvolgersi molto più rapidamente. Perché nel momento in cui poi lui manifesta l'esigenza, o lei manifesta l'esigenza di cercarti, perché, diciamo, la tecnica della goccia esaurita ha fatto il suo lavoro, diciamo così, e allora allontanandoti crei una forte pato su un forte coinvolgimento. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda postata nei commenti e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!